E' bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Nico e ci siamo qui in un nuovo video di Minecraft Ragazzi nel nostro appuntamento di Minecraft come tutte le settimane, come tutti i giorni ragazzi Mi raccomando se vi piace Minecraft iscrivetevi al canale così non perdetevi nessun video C'è un bel like, un bel commento di supporto e niente ragazzi possiamo iniziare con questa Bedwars Fantastic Horse Allora andiamo a prendere dei blocchi come al solito per proteggere il letto e per andare anche negli altri letti A distruggerli ovviamente se no a fare cosa ragazzi, a fare i coglioni no, dobbiamo distruggere i letti ovviamente E questo è lo scopo delle Bedwars per chi non lo sapesse Cavole, ragazzi sta coperto What? Non lo sto capendo, non si può Mi sa che ho sbagliato qualcosa Comunque l'avranno aggiornato, perché è diverso dalle altre cose, dalle altre volte è diverso Ah vero c'era un aggiornamento, l'hanno fatto diverso, ragazzi comunque mi piace anche così Non è affatto male, nemmeno così Un secondo devo salire Ok ragazzi almeno è un pochino più sicuro il nostro lettuccio Perfetto Perfetto ragazzi, di fornimento di armi Fatto Adesso andrò a distruggere il letto a quello Eccolo C'è uno ragazzi come vedete Mi sta prendendo la polpa di vetro, ok l'abbiamo ucciso Ok ragazzi l'ho distrutto il suo letto Però la devo distruggere anche lui, ok Lo dovrei aver ucciso Sì è stato ucciso, perfetto L'abbiamo massacrato ragazzi, polverizzato Il distrutto il distrutto il letto che l'abbiamo ucciso ragazzi, vediamo Ok The bags distrutto Lì c'è un altro, c'è il letto Non si vede la scritta bedded idem, quindi non lo so Direi di andare a prendere l'oro ragazzi Prima però prendiamoci altri blocchi Andiamo ragazzi Oh Oh raga mi sono fatto male però non ho capito come Ok Andiamo subitissimo ragazzi Perfetto ragazzi Oro preso Direi di andare Nel nostro bel lettuccio A prendere ragazzi quello che ci aspetta ovviamente Ovvero la spada diamante Che andremo a prendere in men che non si dica Mi levo questa No mi levo la spada Aspettate Devo vedere Aspettate Ok ragazzi abbiamo la nostra spada diamante Andiamo a prendere altro oro Anzi no ragazzi Distruggiamo qualche letto Il problema è che non so dove andare per distruggere In quello ragazzi Che c'era gente Dove in quello lì Dove c'era quello lì Quello lì dove c'era quello lì Perfetto Sappiamo parlare benissimo Sì ragazzi Lui ha ancora il letto integro E mo' Non c'era quello più integro Aggressivo ragazzi Se te fatemi toccare terra Ok perfetto Lui è caduto Ah no l'ho ucciso io Dove è? Ecco Bella bro Ok ragazzi Detto Massacrato Massacriamo proprio lui Ok Perfetto ragazzi Stiamo compiando la strage anche in questo game Ragazzi Come vedete Chi ha vinto Siamo di nuovo noi ragazzi Là un'altra vittoria Nelle bad wars Perfetto GG per noi ragazzi Come sempre abbiamo dominato le bad wars Come facciamo al solito E niente Il king delle bad wars Ragazzi Eccolo qua Grazie a tutti Grosse Grazie a tutti A presto Oracrazio Grazie a tutti.